Cosa ci si aspetta dal nuovo sindaco? Dal nuovo sindaco mi aspetto che faccia qualcosa per il commercio, per le piazze, qua per il salone, incentivare un po' la gente che venga in centro, quei mesi pubblici, ci vorrebbe qualche parcheggio in più, un po' di ordine, tanta gente che va all'emogita, tanta gente che disturba i clienti qua sotto il salone, mi aspetto qualcosa di nuovo, qualcosa di positivo. Comunque sente che ci sia un'aria nuova con questo nuovo sindaco? Noi commercianti siamo contenti che abbia vinto Bitonci.